Che cos'è la cura dei contenuti e qual è il suo ruolo nell'apprendimento? La rivoluzione digitale ci ha consentito di realizzare il sogno illuminista di un sapere aperto a tutti o ci ha gettato in una selva oscura, quella della difficoltà di comprendere? Una selva, tra l'altro, in cui non troveremo mai una via, tantomeno diritta, che nel web non ci sono vie. E la selva informativa sono i big data, la crescita esponenziale della quantità di dati nelle reti, la crescita della loro velocità di circolazione, ma anche della varietà dei formati e delle tipologie di interazione comunicativa. Nel 2015 si è calcolato, o siano stati pubblicati in rete, o abbiano girato in rete, circa 8 zettabytes di informazione. Uno zettabyte è pari a 1000 exabyte, che sono pari a 1000 petabyte, che sono pari a 1000 terabyte. Detto in altri termini, stiamo parlando di una quantità di informazione pari a quella che sarebbe contenuta in 18 milioni di biblioteche del congresso. O, sempre intuitivamente, è stata prodotta più informazione in questi ultimi 4 anni che in tutta la precedente storia dell'umanità da quando esiste la scrittura. E il problema del sovraccarico informativo, che non è solo informativo, è anche cognitivo, non si tratta solo di un enorme mole di dati, si tratta anche di dare un senso a questi dati, l'attribuzione di senso, cioè ricavare informazioni dai dati, è possibile solo contestualizzandoli e organizzandoli. Una sfida improba anche per Superman. E' quello che Piero Domini ci chiama il fenomeno della ipercomplessità, una risposta possibile da sempre al riduzionismo, come insegna la storia di Alessandro, che dovendo conquistare l'Asia, dovendo sciogliere, come diceva, narrava la leggenda, il nodo di cordio, si limitò a sguennare la spada e a tagliare il nodo di cordio. E' la via ingegneristica, quella della estrazione dei dati, l'applicazione di algoritmi matematico-statistici a questa gran mole di dati, per estrarne appunto informazioni standardizzate a vari scopi finanziari, economici, di controllo politico, di marketing. Ma siamo sicuri che questo approccio sia desiderabile e auspicabile, applicato alle persone o all'apprendimento? O, come già dicevano i Pink Floyd, corriamo il rischio della standardizzazione delle coscienze, della uniformazione degli intelletti? Esiste una via umanistica, non nel senso delle discipline umane, ma nel senso di centrata sull'uomo, per affrontare il problema del sovraccarico informativo e della ipercomplessità. Una fra le tante possibili strade è appunto quella della cura dei contenuti o content creation. Non si tratta di una rivoluzionaria definitiva soluzione a tutti i problemi della conoscenza e della scuola. Niente di tutto questo. Di che cosa si tratta? È illuminante a questo proposito la storia di Isidoro di Siviglia, autore delle etimologie vissuto nel VII secolo d.C. Isidoro è protagonista di uno dei casi di cura dei contenuti di maggior successo della storia, con qualche centinaio di volumi, residuo del sapere classico che stava scomparendo, a partire da quelli pubblica le sue etimologie e trasmette il sapere classico all'alto medioevo. Cosa fa in realtà Isidoro? Isidoro legge, seleziona, confronta, estrapola, commenta, glossa, annota a partire da quei volumi, compendia, ricontestualizza il tutto, lo presenta in forma di una enciclopedia su formato etimologico, e in questo modo il sapere del passato viene da lui condiviso con il pubblico del futuro. Ebbene, oggi siamo in una situazione ben diversa da quella di Isidoro. Oggi il web contiene anche troppi dati, non troppo pochi, e sono dati non filtrati, non selezionati e organizzati, non sono dati validati e certificati, inoltre non esistono strade maestre o mappe per orientarci nel web. E il web stesso non ha un ordine univoco e universale, è percorribile in infiniti modi, differenti. Il web è una sorta di dialogo babelico, un fiume digitale in cui tutto scorre incessantemente. La cura dei contenuti può allora essere vista come una sorta di ermeneutica del web. Cercare argomenti e risorse su un tema specifico, selezionarle, giudicarne il valore e classificarle, quindi fornire delle informazioni di contesto e un commento, valore aggiunto del curatore, e presentare il tutto in un determinato formato comunicativo per poterlo pubblicare e condividere con un'utenza specifica interessata a quel tema specifico. Per David Weinberger questa è l'architettura stessa del nuovo sapere. L'utente che diviene esperto e divenendo esperto rende esperto. Chi lo legge? È quella che Pierre Lévy chiama l'intelligenza collettiva, è il processo stesso che dà vita all'intelligenza collettiva, secondo le stesse parole di Lévy, connettersi, filtrare, selezionare le informazioni, categorizzarle, archiviarle, e condividere tutto questo con altre persone. È quella che Rubin Guc chiama la via umanistica alla cura dei contenuti, che cambierà e trasformerà radicalmente il mondo dell'educazione. Bene, il web offre tante applicazioni, tanti strumenti che possono aiutare nelle varie fasi in cui si articola il processo della cura dei contenuti, classificare, ordinare, selezionare, commentare, condividere e così via. E quindi, e quindi, keep calm and create. Grazie a tutti e arrivederci.